SIGLA Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Poi metteremo il disegno nella capsula del tempo e fra 50 anni qualcuno l'aprirà e vedrà che cosa avete disegnato. Ascoltami bene, so che sembra strano. Ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni in sequenza perfetta. Terremoti, incendi, tsunami. Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia. Deve scendere. Perché? Che succede? Faccia quello che le dico, scenda! Nello spaventoso incidente hanno perso la vita 81 persone. I numeri sono un avvertimento. Che succede quando la sequenza termina? Segnali dal futuro